Andria, sei preso? No? Ciao, bella, ciao bella. Robi, riprendi mentre giriamo le tracce. Questa è la mia nuova ragazza. Io e lei che sposiamo troppo. E tilde? E tilde, basta, gli facci più questa. Si chiama Alessandra. Allora, Alessandra, questa è qui? No? Prendi qua. Ciao bella, ciao bella. Robi, riprendi mentre giriamo le tracce. Chiari la mia nuova ragazza. Sì, scusate. E tilde, basta. Robi, stai. Chiama Alessandra? Allora, Alessandra, potrei che ci sposiamo. Ma dove dovrei? Prendi qua. Dai Robi, l'era. Per chiari questa posizione. Sì, scusate. No, 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 no. Robi, Marco. Robi, ti devo andare. Voi ti chiedi, mamma. Non ce lo stai, mi chiedi. Non ce lo stai. Hai Robi, l'era. Che. Dai Robi. Dai, per cari. Mi orgoglio perché non ho finito. Robi, Marco. Baccia a parlare. Robi, togli. Non ce lo stai. Sì, non ho vergogna perché non ho figli. Vieni, 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 vieni. Vieni, 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 vieni. Vieni, 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 v Per la saglia delle pepane ci sentiamo. L'ultimo giorno di Riccione. Per gli scani di Pompei. Per gli scani di Pompei. Per la saglia di Riccione. Per la saglia delle pepane. L'ultimo giorno di Riccione. cellulite in primo piano per gli scavi di pulpera mi spromontano guarda, ci c'è un po' in là qua guarda, ci c'è un po' in là qua non se ne prende eh? tripa, tripa cellulite cellulite in primo piano è un ricordo non ti ricordi? è 6-7 anni, 5-6 anni che sopra infatti ho detto lo volevo portare a casa è un ricordo mi dispiace si è trovato lo vuoi portar via subito è un ricordo è un ricordo che ne so è 6-7 anni, 5-6 anni mi dispiace infatti ho detto lo volevo portare a casa mi dispiace basta questo c'era eventualmente se mi capita te la prendo Marco prendi Paola mi dispiace a ragione grazie vediamo Pedro a dole a dole a dole a dole a dole a dole E' una diciottenne in primo piano. 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 è l'unico dell'aiuto si stanno dicendo ma mi fai a me 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.